ora lei mi spiega perché mia figlia giumberta una nota nel suo libretto signora sua figlia è salita sulla cattedra e dopo di che è iniziato a bestemmiare e insultare una compagna di classe ok e quindi siete una scuola troppo esagerata cancelli quella nota o la denuncerò e la farò vivere sotto i ponti va bene signora mi chiami regina o divinità va bene mammina ora puoi andare fatti un secondo che mi cambio oltre ad essere scomoda verrei brutalmente aggredita da gisella e non voglio morire giovane quindi mi cambio per caso ti piace quel ragazzo ma che cavolo dici lo guardo perché sembra gay è giumberta ciao gisella e ciao alessia ciao giulia e la ragazze quindi stasera vieni al concerto quale concerto quello ragazze giochiamo alle winx si io faccio bloom cosa sono le winx io faccio il cane allora io faccio flora giulia fa bloom gisella fa il cane invece giumberta fa tecna ma tecna è brutta esattamente come il nome di giumberta almeno lei non si mette 4 kg di trucco al giorno non ho capito tecna o becna non ho capito tecna o becna